Partinico Partinico Buonasera e ben ritrovati con il Tg7 Notizi. In apertura vediamo subito una notizia di politica locale. Ieri sera a Partinico il Consiglio Comunale ha detto sì alla delocalizzazione della distilleria Bertolino. Vediamo. Il Consiglio Comunale di Partinico dice sì alla delocalizzazione della distilleria Bertolino. L'atto deliberativo è stato approvato ieri sera con 18 voti favorevoli e 4 astenuti. Il sì alla delocalizzazione della storica industria di Partinico da Viale dei Platani in Contrada Sant'Anna è arrivato grazie anche ai voti dei consiglieri di Miroranza Santino Aiello, Pino Giovia ed Ezio Loiacono. Voti che hanno permesso di supplire alle assenze in aula al momento del voto di due consiglieri del PDL e di alcuni consiglieri vicini al sindaco Salvo Lobbiundo. Non significa un po' per l'amministrazione ma per tutto il Consiglio Comunale e per tutta la città di Partinico. Si è arrivato a un inizio di un percorso storico per quanto riguarda la delocalizzazione della distilleria Bertolino che non solo serve a salvaguardare l'ambiente all'interno del centro abitato ma fare rimanere un'azienda sul Comune di Partinico è importantissimo anche per lo sviluppo economico che va a creare. Ritengo che c'è stato un consenso generale, ripeto con grande senso di responsabilità ma il lavoro serio incomincia da domani in poi perché questo diciamo che è un inizio di un percorso. Io invito di nuovo a tutti a grande senso di responsabilità per il futuro vedere di procedere con questo protocollo di intesa mantenendo i tempi e rispettando la procedura che ci siamo date per dare le risposte in tempi reali alla città di Partinico e sinceramente creare quello sviluppo economico che oggi tantissimo i cittadini si aspettano. Sì per due ragioni, uno per le responsabilità che attiene al Consiglio Comunale e quindi da Consigliere Comunale sì al fatto che gli emendamenti che abbiamo proposto e sono stati votati andavano nella direzione di tutte quelle persone che non rappresentate in Consiglio Comunale ci hanno dato mandato per dire sì alla dislocazione e alla distilleria Bertolino. delle associazioni ricordo anche perché mi onoro di farne parte il Comitato, il Consiglio Intercomunale per l'ambiente il quale in quest'ultimo periodo ha tenuto diversi incontri, diversi convegni per sviscerare quello che era un documento che non sarebbe potuto passare, di questo se ne è reso bene conto il sindaco e quindi è ritornato sui passi. L'atto deliberativo è passato dopo l'approvazione di otto emendamenti che erano stati concordati qualche giorno prima nel corso di una riunione con la Commissione Consigliare Competente in Materia. Degli otto emendamenti, approvati pure dai consiglieri di minoranza, due sono più significativi. Trasformare la dicitura della convenzione urbanistica consensuale in protocollo d'intesa e inoltre prevedere la variante urbanistica dopo la presentazione e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto di massima del nuovo stabilimento industriale. Tutti bocciati invece i 18 emendamenti presentati dai consiglieri di minoranza. Beh, anzitutto è stata una vittoria delle forze di opposizione, perché non dirlo, del Partito Democratico, dell'Udc e dei tanti comitati civici che da più di un mese hanno posto all'attenzione dell'amministrazione comunale che procedere sulla strada di una convenzione urbanistica consensuale sarebbe stato un errore gravissimo. Quindi oggi, per fortuna, l'amministrazione Lobiunda ha fatto marcia indietro approvando un protocollo d'intesa al quale anche noi abbiamo dato il nostro contributo. Volevamo puntualizzare anche ulteriori aspetti. Primo fra tutti proprio la delocalizzazione, perché il protocollo d'intesa approvato prevede che la delocalizzazione della distilleria Bertolino avvenga dopo la realizzazione del nuovo impianto industriale, dopo che questo entri in funzione. Ci parliamo almeno di tempi superiori ai 5 anni sicuramente, molto prossimi 10 anni. Noi chiedevamo e continuiamo a chiedere la delocalizzazione immediata dopo l'approvazione del progetto di Massimo, cioè nel giro di qualche mese. È una differenza sostanziale fra il nostro modo di vedere e il modo di interpretare questa vicenda da parte del sindaco Lobiunda, il quale registriamo che questa sera ha una nuova ampia maggioranza, riuscendo nuovamente a fare incetta di consiglieri che provengono dall'opposizione, che praticamente sono disponibili a rendergli tutti i servizi necessari. L'astenzione da che cosa è motivata? È stata motivata dal fatto che i tempi di realizzazione del nuovo impianto industriale, così come si evince dal documento, se tutto va bene avverrà tra i prossimi 5-10 anni. Noi avevamo anche proposto degli emendamenti che adesso da tempi certi per quanto riguarda il trasferimento, purtroppo le forze di maggioranza questi emendamenti ne hanno bocciati. Singolare la posizione del consigliere comunale Gioacchino Catalano, da tempo in contrapposizione con il sindaco Salvo Lobiunda, che si è astenuto in tutte le votazioni. Assolutamente non c'è lealtà nel comportamento del capo dell'amministrazione, per il semplice motivo che lui prima ha firmato la convenzione urbanistica consensuale più di due mesi fa, quando poi ha registrato tutti i malumori all'interno prima della sua maggioranza, allora poi ha mostrato questa apertura di cui tanto si pavoreggia, ma è stata una apertura di necessità. E qualche consigliere comunale, diciamo, che è caduto nel trannello. Mi auguro soltanto, proprio per il bene della città, che questa sera il consiglio comunale non abbia offerto al paese, come si dice in siciliano, un canniscio vacante. Restiamo in argomento e sull'approvazione della delocalizzazione della distilleria Bertolino abbiamo raccolto anche la dichiarazione del consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Speciale. Sì alla delocalizzazione, ma grazie anche al voto dell'opposizione. Ma guardi, questo è un argomento sul quale noi ci siamo spesi tantissimo. Questa amministrazione e questo consiglio comunale ha voluto che un argomento così importante fosse un argomento di tutti i consiglieri comunali, non un argomento di maggioranza e un argomento dell'opposizione, perché la maggioranza aveva voti per poter votare questo atto deliberativo, ma noi tutti assieme abbiamo deciso che un atto, ripeto, così importante deve essere un atto condiviso con tutta la città e quindi votato da tutti i consiglieri comunali. Ripetiamo che passi indietro non ne sono stati fatti, anche perché noi l'atto deliberativo che avevamo votato già nella terza commissione lo ritenavamo legittimo. È stato, ripeto, un atto di condivisione con tutti i consiglieri, ci spiace solo l'astenzione da parte del partito dell'EPD e dell'UDC, perché anche alcuni consiglieri di questi partiti erano stati coinvolti in un ragionamento univoco, ma alla fine hanno presentato 21 emendamenti la sera che c'è stato il consiglio comunale. Quindi non c'è stata nemmeno l'opportunità di poterli prendere in considerazione e decidere se potevano essere condivisi insieme agli altri consiglieri comunali. La quarta sezione della Corte d'Appello ha deciso di assolvere i partinicesi Francesco Paolo Di Giuseppe e Salvatore Baiesi. Nessun estorsione all'imprenditore Cusumano. La presunta vittima aveva parlato di prestito. Vediamo. Francesco Cusumano, titolare dell'omonima azienda Vitivilicola di Partinico, davanti alla quinta sezione del Tribunale di Palermo, aveva parlato di prestiti riferendosi ai 3 milioni di lire consegnati nel 2001 a Salvatore Baiesi e ai 2.500 euro dati invece a Francesco Paolo Di Giuseppe nel 2003. Eppure, nonostante la versione fornita dall'imprenditore, i giudici li avevano condannati entrambi per estorsione aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra 12 anni di ciascuno. Ora però, la quarta sezione della Corte d'Appello ha deciso di ribaltare il verdetto e di assolverli entrambi. Contestualmente i giudici hanno invece confermato la condanna a 12 anni per un terzo imputato, Alessandro Brigati. Al centro del processo ci sono non solo la presunta estorsione a danni delle cantine Cusumano, denunciata nel 2006, ma anche quella ad un'impresa di Partinico impegnata nei lavori di metanizzazione. I 3 imputati sarebbero vicini al clan De Fardazza, capeggiato dai fratelli Leonardo e Vito Vitale. In un altro procedimento penale, infatti, in cui i 3 erano accusati anche di associazione mafiosa, Di Giuseppe ebbe 7 anni in primo grado e 6 in appello, Brigati 10 in tribunale, mentre Bagnesi venne assolto in primo grado sia dall'accusa di mafia che da quella del duplice omicidio Alduino Rossello. In appello ebbe però l'ergastolo, fuggì e venne arrestato nel 2009. Cusumano in primo grado aveva ammesso senza problemi la presunta richiesta di pizzo da parte dell'attuale pentito Michele Sedita, che nel 1998 e nel 1999 gli avrebbe fatto pagare 25 milioni di lire. Riferendosi a Di Giuseppe e Bagnesi parlò invece di prestito. Da lunedì il depuratore di contrada Ciacchea Carini entrerà in funzione. Saranno trattate le acque reflue del centro storico, un importante passo avanti verso la riqualificazione ambientale della costa. Il comune, inoltre, ha ottenuto 5 milioni di euro per completare la rete fognaria della cittadina. Sentiamo i particolari. Entrerà in funzione lunedì prossimo il depuratore comunale di contrada Ciacchea Carini. Riceve i reflue che convergono dal centro storico e dalla via Chiovaro. Una buona notizia per la salvaguardia dell'ecosistema della costa carinese che si aggiunge a quella del finanziamento di 5 milioni di euro ottenuto dal comune dal Cipe per la riqualificazione ambientale. Questa per noi è sicuramente una grande soddisfazione. Questa amministrazione ha creduto tantissimo sulla riqualificazione della costa, sul recupero delle acque reflue. Quest'anno, all'inizio dell'anno, abbiamo presentato questi progetti per il Ministero dell'Economia e nel giro di pochissimi mesi abbiamo ottenuto questo finanziamento assieme ad altri comuni del Medio d'Italia per un importo par a 5 milioni di euro. Con questi 5 milioni di euro vengono finanziati due collettori fognare che vanno dall'inizio di Portorraes attraversano via Piraneto, via Vespucci, via Cristoforo Colombo, via Fondocrocco. Quindi significa che recuperiamo tutte le acque reflue che vanno verso la parte bassa di Carini e quindi verso il mare. Con questo finanziamento andiamo a completare quell'iter di recupero totale delle acque reflue di Carini. Due impianti di sollevamento già esistono, uno per il centro storico di Carini e la zona industriale che va al depuratore, un altro di Villa Grazia di Carini di Contrata Predicatore che fra qualche mese dovremmo attivare perché ci è stato vandalizzato in questi mesi, ma comunque ci stiamo adoperando per attivarlo quest'altro impianto e quindi portare, eliminare finalmente le acque che vanno sul mare, acque che vanno verso mare ormai possiamo anche dire da centinaia di anni, da sempre, ma che comunque le amministrazioni precedenti e questa amministrazione si sono attivate e quindi finalmente possiamo dire che entro il 2015 utilizzando questi finanziamenti dovremmo passare a questa fase nuova che è la riqualificazione della costa, della città di Carini. La costa carinese al momento è sotto la lente di ingrandimento della Procura della Repubblica per una serie di scarichi fognari abusivi. I nuovi interventi potranno dare una risposta concreta alla soluzione definitiva del problema, come assicura il Sindaco. Io scinderei le due fasi. Una prima fase, io penso che nel giro di qualche mese dovremmo andare a recuperare quelle che sono le osservazioni fatte dalla Procura su determinati scarichi che, ripeto, sono scarichi che esistono da sempre. Le amministrazioni che si sono susseguite hanno temperato ognuno per la sua parte. Io adesso sono pronto per concludere l'iter. Quindi la prima parte, io penso che nel giro di un paio di mesi dovremmo attivare la stazione di pompaggio di predicatore e di contrata ciachea che lo facciamo lunedì e successivamente con i finanziamenti ottenuti dal Cipe, quindi 5 milioni di euro, andremo a completare tutta quella che è la rete fognare della città di Carini perché parliamo di nuovi insediamenti abitativi e quindi di tantissime famiglie che in questo momento hanno difficoltà. Adesso ci spostiamo a San Martino delle Scale dove i carabinieri hanno arrestato due coniugi di 54 e 50 anni per violazione dei sigilli di un immobile sottoposto a sequestro giudiziario. I militari dell'arma li avevano sanzionati già lo scorso gennaio quando, a seguito di un controllo, il cantiere di loro proprietà era risultato completamente abusivo. Nel frattempo però era stato costruito un piano di 140 metri quadri sorretto da 16 pilastri e si stavano ultimando i lavori per un'ulteriore soletta di 12 metri quadri, edificati senza alcun tipo di permesso o licenza. I due coniugi sono stati ammessi ai domiciliari presso la propria abitazione e in sede di Rito Direttissimo si sono visti convalidare l'arresto ed è stata allora applicata la misura d'obbligo della firma tutti i giorni. Restando in argomento nell'ambito dell'operazione Mattone Sicuro, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Palermo e del comando stazione di Balestrate hanno eseguito un accesso ispettivo ad un cantiere di Ile per i lavori di manutenzione di una civile abitazione, sita Balestrate in via Madonna del Ponte. I carabinieri hanno accertato che vi erano le concessioni edilizie previste ed è ferito il Stato di libertà per violazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro l'amministrazione unico della ditta esecutrice dei lavori ed il titolare della ditta esecutrice dei lavori di realizzazione di un controsoffitto. È stato denunciato pure il Stato di libertà il Comintette dei predetti lavori per non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice dei lavori. Dalle indagini della Procura della Corte dei Conti emerge oltre al coinvolgimento di Emanuele Currao anche quello di una serie di dirigenti, funzionari e dipendenti del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione. Vediamo i particolari. La formazione professionale torna nell'occhio del ciclone. Decine di persone fra dirigenti funzionari e dipendenti, indagati con l'accusa di aver intascato soldi pubblici e di aver fatto un numero sproporzionato di ore di straordinario. Emanuele Currao, funzionario dell'area Affari Generali del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione, è stato raggiunto da un provvedimento di sequestro della Procura della Corte dei Conti. I finanzieri del nucleo di Polizia Tributaria di Palermo hanno sequestrato al funzionario quasi 70.000 euro. Si tratta però di un sequestro conservativo, la cui definitiva convalida sarà decisa il prossimo 26 luglio. Secondo l'accusa, Currao avrebbe gonfiato il suo conto corrente, personale, con i soldi della Regione destinati in realtà al pagamento dei vari fornitori. C'è di più. Currao non solo entrava nel sistema con la password della direggente concetta Cimino, ma lo avrebbe fatto in un periodo in cui in ufficio non doveva proprio metterci piede. Currao, infatti, è stato sospeso per sei mesi, un provvedimento disciplinare deciso per via del suo coinvolgimento in un'inchiesta penale. Ma Currao non è l'unico. Dalle indagini della Corte dei Conti risultano coinvolti altri 25 tra funzionari e dirigenti indagati a vario titolo. Ci sono quelli che hanno distratto le somme e coloro che avrebbero dovuto vigilare per impedire che ciò accadesse. Già mesi fa decine di persone hanno ricevuto un'informazione di garanzia dai magistrati contabili. Un altro troncone di indagini riguarderebbe lo straordinario pagato dal Dipartimento. Tra il 2008 e il 2009, in molti casi, lo straordinario di molti dipendenti avrebbe superato e di gran lunga le normali ore di servizio. Lo straordinario sarebbe stato liquidato da Concetta Cimino, dirigente dell'area Affari Generali del Dipartimento, allora retto da Patrizia Monterosso. Si continua ad indagare e c'è chi giura che presto potrebbero esserci sviluppi clamorosi. Non è escluso che oltre a quella contabile anche la Procura Ordinaria possa occuparsi della vicenda. Nel corso di un incontro con il segretario regionale dell'Udc, Giampiero D'Alia, Enzo Briganò, vicepresidente vicario del Consiglio Provinciale di Palermo, ha aderito all'Unione di Centro. Il passaggio del Consigliere è l'occasione per annunciare di concerto con D'Alia la propria candidatura alle prossime elezioni regionali. La mia adesione all'Udc, spiega il Consigliere, nasce da una valutazione condivisa insieme a tanti amici, approvando pienamente il nuovo corso del partito portato avanti da tempo da Pierferdinando Casini in Sicilia. La mia disponibilità a candidarmi alle regionali nasce dalla volontà di spendermi per ridare voce alla necessità della Sicilia e dei siciliani. Amministratori, consiglieri comunali, ambientalisti e semplici cittadini, tutti insieme per il decoro del Paese. A trappeto intervento di restyling hanno interessato alcune fontane da lungo tempo lasciate all'incuria del tempo e dei spazi verdi. Amministratori, consiglieri comunali, ambientalisti e semplici cittadini, tutti insieme per il decoro del Paese. A trappeto interventi di restyling hanno interessato alcune fontane da lunghi anni lasciate all'incuria del tempo e di spazi verdi. Tutti i lavori sono stati realizzati in economia spendendo poche centinaia di euro. Questa mattina lavori completati nella fontana davanti al municipio coinvolti numerosi bambini del Paese. L'iniziativa parte in realtà dal lavoro dei consiglieri e anche dal lavoro della signora Angela Vitale. Però è un'iniziativa che fa parte di quello che era il nostro programma perché sin all'inizio ci siamo riposti nel voler rivalutare non solo quelle che sono le risorse ambientali, le risorse che abbiamo sul territorio, quindi le fontane, quelle piccole strutture che noi abbiamo. Ma era anche il nostro intento, e l'abbiamo detto nel programma e stiamo cercando di farlo, quello di rivalutare quelle che sono le risorse umane. Cioè abbiamo delle potenzialità qui a trappeto delle risorse umane e vogliamo metterle in gioco a partire dagli anziani coinvolgendo i bambini ed è un'iniziativa che va inserita in questo quadro. Non solo questa fontana della piazza davanti al municipio ma altre fontane avete ristrutturato. C'è anche la fontana nella piazza delle pecore. Diciamo che sono state fatte delle ristrutturazioni d'urgenza, devono essere ovviamente ancora migliorate, non è una ristrutturazione definitiva, però si è cercato di rivalutare con pochi soldi quello che è già esistente. Altre iniziative in cantiere? Allora le altre iniziative, non so se avete visto che è stato anche risistemato e ripristinato quella che è la via Lungomare, quindi anche l'inferriata è stata ridipinta, abbiamo cercato di coinvolgere tutta la cittadinanza e per quanto riguarda le iniziative, parlo però dei bambini e degli adolescenti, ci stiamo muovendo sul fronte a scuola creando una rete di collaborazione con le istituzioni scolastiche. Grandi eventi, non convalidato l'atto disposto dai PM sulle proprietà dell'imprenditore agrigentino Faustino Giacchetto, non si conoscono ancora i motivi della sentenza, vediamo. Il GIP di Palermo Giuliano Castiglia non ha convalidato il sequestro preventivo di alcuni beni dell'imprenditore agrigentino Faustino Giacchetto, al centro dell'inchiesta sulle presunte turbative nella giudicazione di alcuni grandi eventi finanziati dalla regione. Si tratta di 600 mila euro di alcuni orologi da collezione di gioielli, trovati in una cassetta di sicurezza intestata alla cognata del manager, per un valore complessivo che ammonterebbe a circa 2 milioni di euro. Il giudice ha dunque rigettato l'inchiesta dei PM che coordinano l'inchiesta, Maurizio Agnello e Gaetano Paci, ed ha colto invece quella dei difensori dell'imprenditore, gli avvocati Fabrizio Biondo e Giovanni Di Benedetto. I legali non solo avevano fin da subito denunciato la fuga di notizie legate all'inchiesta, ma avevano anche ritenuto incomprensibile la richiesta di sequestro. Allo Stato Giacchetto risulta indagato assieme ad altre sette persone, ma la Procura non esclude di potergli contestare anche l'accusa di corruzione. L'inchiesta è solo alle prime battute, spiega il procuratore aggiunto Leonardo Agueci, e per ora tutto deve essere ancora verificato ed approfondito. Conosco la decisione del GIP, ma non ho ancora letto l'ordinanza e le motivazioni. Valuteremo naturalmente l'ipotesi di impugnare il provvedimento. Soldi all'AMAT. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, nomina un legale esterno per il contenzioso con l'azienda. Il PDL accusa spreco per le casse. Arriva subito la replica. Lo prevede la legge, ma vediamo. Il sindaco nomina un avvocato per trattare un arbitrato con l'AMAT da 39 milioni. E scoppia un caso. Per il consigliere comunale del PDL, Giuseppe Milazzo, Orlando si è rivolto a un professionista esterno, tutto a carico delle casse comunali, che come è noto non sono in buona salute. E tra le polemiche c'è spazio anche per un parere del ragioniere generale Paolo Basile, il quale fa emergere dubbi sia sull'attivazione che sui costi dell'arbitrato, come rimedio per risolvere il braccio di ferra tra comune e AMAT. Il professionista esterno a cui si è affidato il sindaco Orlando è l'avvocato Giampaolo Galante, mentre nella determina si dice chiaramente che la quantificazione dell'onorario non è al momento stimabile e se ne parlerà in un secondo momento. Per Milazzo, quindi, questo rappresenterebbe solo uno spreco per le casse comunali. Il botte risposta non chiude il caso e fa emergere il grande contenzioso tra Palazzo delle Aquile e la società di trasporti cittadina, esploso a fine 2009, quando l'aggiunta cammarata tolse all'improvviso 10 milioni all'AMAT. E ora l'arbitrato vuole tentare di dare una risposta a un problema finanziario ormai cresciuto a dismisura. Decine e decine di milioni di euro, tutti i soldi che l'AMAT dice di vantare. Sono già partiti tre decreti ingiuntivi e adesso c'è la richiesta dell'arbitrato. Il dirigente Marcello Bartolone e l'avvocato Rodolfo Lapaia seguiranno l'arbitrato per conto dell'AMAT, società tra l'altro con un CDA svuotato, perché sia il presidente Mario Bellavista che il consigliere di amministrazione Nino Caronia sono dimissionari e pertanto a gestire le sorti dell'azienda di Via Roccazzo è rimasto solo Giuseppe Giordano. Mi candido alla presidenza della regione siciliana. Gianfranco Micicchè, leader di Grande Sud, ha dato l'annuncio ieri sera alla convention del Movimento Arancione che si è tenuta alle ciminiere di Catania. Questa è la regione principale del nostro movimento, guidare la regione del sud. Ed io che ne ho la responsabilità me ne assumo di fronte ai siciliani, ha detto lo stesso. Servono idee e programmi innovativi. Tuttavia, ha aggiunto, sono altrettanto convinto che le persone, cioè coloro che devono attuare con fermezza e determinazione ciò che viene proposto agli elettori, siano altrettanto importanti. Nell'ambito dell'emergenza incendi a Monreale, Caputo vuole mettere in atto una precisa strategia per fermare un'organizzazione criminale che vuole distruggere i paesaggi. Serve anche l'intervento dell'esercito, afferma lo stesso. Vediamo. Non basta più attardarsi a discutere sui tempi degli interventi o sui presunti ritardi nelle attività di spegnimento degli incendi. Serve avviare una strategia di prevenzione e controllo del territorio in maniera altrettanto decisiva come la strategia criminale posta in essere finalizzata a distruggere le aree più belle e strategiche del nostro territorio. A dichiararlo è Salvino Caputo, presidente della Commissione Attività Produttive, che oltre ad aver presentato un'interrogazione parlamentare ha convocato in commissione il comandante regionale del Corpo Forestale, il nuovo dirigente generale dell'azienda Foreste e il direttore della protezione civile regionale. Siamo in presenza non di piromani isolati, ha continuato Salvino Caputo, ma un'organizzazione che sta devastando le zone boschive più importanti, con al rischio anche perdite di vite umane, vista la presenza di numerose abitazioni nelle aree incendiate. Serve un intervento massiccio di prevenzione e controllo e per questo chiederò ai dipartimenti competenti di impegnare gli uomini del Corpo Forestale e i volontari della protezione civile. Soltanto il controllo fisico del territorio può scoraggiare altre azioni. In questa strategia operativa, ha concluso Salvino Caputo, chiederò anche la presenza dell'esercito. Il presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, nomina il nuovo assessore per i beni culturali, è il siracusano Amileto Trigilio. Vediamo. Il presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, ha firmato il decreto di nomina del nuovo assessore per i beni culturali e l'identità siciliana. È il siracusano Amileto Trigilio, 52 anni, imprenditore, titolare di una società di consulenza nel settore della gestione delle risorse umane e presidente del settore terziario innovativo di Confindustria di Siracusa. Prende il posto del dimissionario Sebastiano Missineo. Io credo che, è ovvio che bisognerà tenere presente che in tre mesi, quattro mesi di attività non ci possiamo porre obiettivi massimali. Però credo che le potenzialità di una terra come la Sicilia, in cui il bello domina e parla da solo, credo che abbisognino solo di un'azione di sistema che metta a sistema le risorse che esistono sul territorio per consentire poi, in linea anche col grande sforzo che comunque questo governo ha fatto e l'assessore uscente ha prodotto insieme a tutta la struttura amministrativa ad acquisire ulteriori risultati per collocare la Sicilia nel suo insieme all'interno di un contesto che le compete. La prima cosa che immagina di fare non appena insediato? Guardi, io già sono passato oggi pomeriggio non appena ricevuto la nomina dagli uffici dell'assessorato. Sarei presuntuoso se oggi le dicessi di avere definito un programma che ovviamente deve nascere da una consultazione con la struttura amministrativa dell'assessorato che sono chiamato a governare. Pertanto ritengo che nei prossimi giorni sicuramente avremo modo di affrontare in modo più compiuto e soprattutto più concreto i temi sui quali penso di potermi cimentare e sui quali penso di prendere impegni concreti da realizzare nell'arco di questo breve periodo che mi verrà protagonista nell'ambito dell'assessorato beni culturali e di questo governo della regione Sicilia. L'Aggiunta ha sfornato una valanga di nomine nelle aziende sanitarie provinciali spuntano nomi nelle varie province ed è già corsa per l'ASP di Palermo si fa il nome di Angelo Alicuo e di Anna Rita Mattaliano Lombardo vuole piazzare gli ultimi colpi in zona Cesarini sentiamo i particolari L'ex dirigente dell'ASP di Palermo Salvatore Iacolino l'aveva preannunciato come l'ultimo atto di pirateria di Raffaele Lombardo il cantiere popolare aveva previsto che si sarebbe trattato di un assalto alla diligenza ora che si tratti di pirateria o assalti o niente di tutto questo il rimescolamento dei vertici delle aziende sanitarie fa rumore proprio perché giunge tra un tentativo all'ars dei parlamentari vicini al governatore di affossare il DDL bloccanomine e le dimissioni dello stesso Lombardo che in alcuni casi piazzerà in zona Cesarini di questa legislatura manager fedelissimi per i prossimi tre anni a dire il vero l'ultima parola spetterà all'ars le nomine infatti per diventare operative dovranno passare dal voto della commissione affari istituzionali in caso di parere negativo potrebbe crollare il castello di incarichi tanti ed importanti a cominciare da quello di Carmelo Pullara ex candidato sindaco a Licata tra le fila dell'MPA nel 2008 promosso da commissario a dirigente generale del civico di Palermo nomine su nomine quindi come quelle che riguardano anche le aziende sanitarie provinciali anche qui si assiste a un pesante restyling da parte del governatore Lombardo in parte necessario visto che i contratti erano in scadenza a luglio si tratta attacca l'europarlamentare Salvatore Iacolino del primo atto del binomio Lombardo presidente russo vice un binomio assetato di potere ma che continua a fare languire le progettualità e a far perdere ingenti fondi comunitari all'ASP di Ragusa Salvatore Cirignotta è stato nominato commissario straordinario al posto di Ettore Gilotta che ieri sera ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico ufficialmente per motivi di salute Cirignotta è attualmente direttore dell'ASP di Palermo carica che dovrebbe abbandonare nel caso in cui la nomina divenisse operativa e a quel punto si aprirebbe la corsa per la prestigiosa ASP del capologo e qualche nome si fa già e uno dei più quotati è quello di Angelo Aliquo uno dei promotori e dei più attivi militanti della lista Palermo a venire di Massimo Russo alle ultime comunali ma la scelta potrebbe cadere nel solco della continuità con Cirignotta su Annarrita Mattagliano direttore sanitario dell'ASP di Palermo dal 2009 sistemata a Ragusa e in attesa di capire cosa succederà a Palermo intanto Lombardo ha sistemato le altre caselle quelle dell'ASP di Agrigento e Catania e Messina rispettivamente vanno a Salvatore Messina Gaetano Sirna e Manilo Magistri nei prossimi giorni potrebbero arrivare anche le nomine per le rimanenti aziende provinciali ARS permettendo dove l'opposizione forse proverà ad alzare un muro in prima commissione si è concluso oggi lo stage formativo di due settimane per giovani calciatori organizzato dalla blasonata dell'Underlet buone prospettive per giovani calciatori oggi le premiazioni e i riconoscimenti vediamo potrebbero aprirsi le porte del mondo dorato del calcio professionistico per alcuni dei 65 ragazzi che in questi giorni hanno partecipato allo stage tra la storica società belga dell'Underlet fatto tra Capaci e Montelepre che ha portato i suoi frutti con la possibile scoperta di nuovi talenti del palermitano oggi la giornata conclusiva con la premiazione e i ringraziamenti l'iniziativa è frutto del progetto Giovani in Europa avviato già da un anno dalla società di calcio giovanile della CS Golden Team di Capaci esperienza importantissima per i nostri ragazzi io come italiano responsabile del progetto Andellet in Italia sono orgoglioso di queste due settimane dove abbiamo dimostrato grande professionalità i ragazzi hanno mostrato anche delle grandi qualità che poi Antonio vi confermerà un bilancio positivissimo un progetto che continua ad andare avanti anche in Italia e che avrà ulteriori sviluppi attraverso affiliazioni e gemellaggi con società siciliane quindi da siciliano sono molto orgoglioso 65 giovani calciatori che hanno partecipato non solo siciliani sì sì i ragazzi vengono dal Belgio sono stati da tutta Italia da Napoli dalla Calabria da tutta la Sicilia dunque un'esperienza anche di scambio culturale oltre che tecnico di grandissima importanza che noi facciamo sempre nelle nostre attività come la poniamo come uno degli obiettivi principali tra i partecipanti c'è qualcuno che potrebbe accedere al mondo dorato del calcio professionistico guarda che il progetto è appunto quello vedere poi i talenti che ci sono qua in Sicilia dato che ce ne sono molti quindi è piaciuto molto all'Anderlecht la settimana scorsa abbiamo visto un ragazzino con delle doti importanti ed è stato invitato per fine luglio a fare un provino da noi questo è il punto che bilancio puoi tracciare di queste due settimane il bilancio è che c'è molta qualità qui in Sicilia però a volte i metodi non sono i stessi e proviamo giustamente di portare quelli in più per dargli ancora più opportunità di avverare i suoi sogni quindi ci sarà un futuro sì questo sia sicuro i ragazzi sono scesi in campo con due sedute giornaliere per studiare tecniche e tattiche negli impianti sportivi del centro Rinaldo in campo salvo un'esperienza impegnativa ma anche di grande spessore ospitare qui i personaggi insomma dell'Underlecht che visionano i nostri piccoli campioni per me è stato un piacere aver ricevuto i ragazzi dell'Underlecht hanno fatto un buon lavoro con successo gli ho permesso di ospitare queste persone alla fine penso che hanno avuto un buon successo oggi a Palermo è il giorno della Santuzza i palermitani sono pronti a stringersi alla loro patrona nell'edizione numero 388 dell'evento di fede e di festa in 300.000 secondo alcune stime parteciperanno stasera al festino di Santa Rosalia con il quattro volte sindaco Leoluco Orlando che dopo dieci anni tornerà sul carro e griderà il tradizionale Viva Palermo e Viva Santa Rosalia alle 21.30 dalla cattedrale parterà la sfilata laica che accompagnerà il carro della Santa fino al mare dove a mezzanotte i fuochi pirotecnici incenderanno la notte di Palermo bene questa era l'ultima notizia prima di chiudere ricordiamo il nostro sito www.tv7partinico.it e adesso arrivederci alle prossime edizioni